Eccoci ancora qui, quindi buonasera. Partiamo subito, come ogni sera, dal bilancio di questa giornata, dal punto di vista dei nuovi casi, dal punto di vista dei guariti, dal punto di vista di chi purtroppo è deceduto. Vedete, siamo arrivati a 74.386 casi, attualmente positivi più 3.491, guariti oggi più 1.036, totale delle vittime di oggi più 683.